Qualche giorno fa abbiamo saputo che avesse la febbre, invece niente ha fermato il nostro padre Gianluigi Pasquale e siamo proprio contenti che sia qui in studio con noi, grazie, grazie padre, grazie di cuore, docente alla Pontificia Università Lateranense. Allora, perché padre Gianluigi Pasquale? Perché sì, questo ci sta sempre, perché noi siamo sempre contenti di averlo in studio con noi. Il 31 gennaio, il 31 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda un uomo, un santo, San Giovanni Bosco e quando parlo di San Giovanni Bosco e questo suo volto, questa sua immagine, quella che tutti noi conosciamo, ci piace sempre ricordare sua mamma, mamma Margherita, perché sarà padre Gianluigi Pasquale a spiegarci il perché di tante importanze, di tanto tandem tra madre e figlio. Il 31 gennaio, giorno della sua morte, nel 1888 ed è il giorno in cui, cento anni dopo, 31 gennaio del 1988, San Giovanni Paolo II, Papa Giovanni Paolo II lo dichiara padre e maestro della gioventù. E qui ho finito di parlare io perché chiedo che sia il nostro padre Gianluigi Pasquale a raccontarci la vita di questo uomo straordinario. Ecco, prima di iniziare, sono un po' incerto questa volta per quanto contento di essere qui in studio perché guardando questa famosissima rivista che spero sia inquadrata, ecco la famosa famosa rivista e girandola subito dopo c'è San Giovanni Bosco, allora da una parte come nel Times c'è Paola Saluzzi e dall'altra oggi, proprio oggi è 31 gennaio 2019, San Giovanni Bosco appunto di qui oggi parliamo. Grazie, grazie padre Gianluigi, io voglio ringraziare Don Ferdinando Colombo nella sua chiesa, nella sua grande chiesa a Bologna perché è stato lui così caro da farmi questo regalo e questa intervista. Grazie per la Gianluigi, è riuscito perfettamente a farmi arrostire. Grazie perché il paragone insomma... Comunque, torniamo... Sì. Prego. Ecco, San Giovanni Bosco è senza dubbio il santo dei giovani per antonomasia. Sì. Ecco, nato il 16 agosto, motivo per il quale poi è stato anche molto devoto della Maria Ausiliatrice, ma come lei diceva c'è questa prima linea femminile, e vorrei chiamarla così, la seconda definiremo gli angeli custodi, questa linea femminile che è presente all'interno di Giovanni Melchiorre Bosco o Giovannino, e cioè la mamma Margherita soprattutto, poi la nonna, ma poi anche la Vergine Maria, in quel famoso sogno che San Giovanni Bosco ebbe a nove anni. Quando di fatto vide una donna meravigliosa vestita di bianco, e aveva soltanto nove anni, fu un po' impaurito, fintanto che gli chiese il nome, e la risposta fu, la risposta te la darà tua mamma chiedendole il nome di colui che tu invochi tre volte al giorno, perché mamma Margherita aveva detto a Giovannino, o a Don Bosco, di invocare Gesù tre volte al giorno. Poi San Giovanni Bosco rifà la domanda e gli dice, ma chi sei tu? Io sono anche colui e colei che ti ha dato il mio unico figlio. E in quel sogno c'era appunto la Vergine Maria vestita di bianco e Gesù, ma tanti ragazzini che San Giovanni Bosco aveva visto lasciati a se stessi, magri, impauriti, giovanissimi, spazzacamini. Nella seconda parte del sogno, che lui continua a raccontare, soprattutto quando di lì a poco avrebbe poi, da sacerdote, fondato gli oratori famosi. È lui che fonda gli oratori, ricordiamo, gli dobbiamo... anche questo. L'oratorio, ecco perché ci sta ascoltando, è quel luogo che è sempre di solito adiacente, ha a che fare con orare, pregare, alla chiesa, dove i giovani sono raccolti con il cosiddetto metodo preventivo salesiano, o il metodo della prevenzione, su cui torneremo tra poco. Su cui torniamo e torniamo anche sul concetto di salesiano, perché salesiani, questo perché me l'ha detto poc'anzi lei. Andiamo avanti. Ecco, nel sogno poi che lui raccontava, la mamma lo interpreta così, significa che tu dovrai diventare sacerdote. E qui c'è tutta la ricchezza di San Giovanni Bosco, perché fa di tutto per diventare sacerdote, ma non gli è stato semplice. Ha dovuto lavorare, ha dovuto guadagnarsi il pane, ha dovuto anche trovare un altro bravo sacerdote, un certo Don Giovanni, che gli aveva lasciato in una cassaforte 6.000 lire, allora era una cifra ciclopica, perché potesse terminare gli studi. Ma lui, che cosa fece? Gli utilizzò per darli ai poveri. Perché, ritorniamo ancora a mamma Margherita, aveva detto che non venga a sapere che tu diventassi sacerdote, e che poi invece saresti un sacerdote ricco, cioè attaccato al denaro. Ed è da quando diventa sacerdote che compare, un po' prima, un po', la figura del buonissimo Luigi. Ecco, questo suo amico, leggendo la storia del quale io mi commuovo sempre, era un amico di Giovanni Bosco, che era sempre preso in giro dai compagni. Eppure lui accettava con mansuetudine, e qui ci avviciniamo alla salesianità, che poi Giovanni Bosco ritrova nel seminario di Chieri, quando si ritrovano seminaristi. E questo Luigi muore giovane e dice a Giovanni, dopo essere morto, nella notte tra il 3 e il 4 aprile, in visione, Giovanni, io sto bene e ho raggiunto la vita eterna. E sa che cosa ha scritto nelle sue memorie Giovanni Bosco? In quel momento io ho capito che cosa significhi essere cristiano. Pensi, Giovanni Bosco, da un bambino, da un fanciullo di 22 anni, morto, innocente, per malattie ovviamente, ha scritto e capito che cosa significhi essere cristiano. Ecco, c'è tutta questa linea di grande carisma, che parte dalla mamma e che poi lui trasferisce verso i giovani. Allora, quando parla padre Gianluigi Pasquale, ve lo posso garantire, non vuole una mosca in questo studio, perché è così, perché queste sono storie altissime sotto tutti i punti di vista. Tutti i punti di vista. Noi mettiamo un asterisco a questo momento della vita di questo grande santo e andiamo a raccontare la missione della famiglia salesiana, ovviamente l'impegno con i giovani. I ragazzi vengono cresciuti, sostenuti, educati, sotto le grandi ali dell'esempio di San Giovanni Bosco. La nostra Antonella Ferrara è stata a Casale Monferrato, siamo in provincia di Alessandria, a scoprire il lavoro degli animatori della comunità Arambè, uno dei grandi programmi dei salesiani per il sociale. Guardiamo. E torniamo tra poco. La comunità e i progetti che fanno loro, direi che mi hanno cambiato molto la vita. Salesiani per il sociale è la parte laica della realtà salesiana. Portano avanti azioni concrete per la promozione dei ragazzi. A Casale, la comunità Arambè, il gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati, si occupa di ragazzi minorenni. Arrivati alla maggior età, questi ragazzi devono uscire dalla comunità, dalle comunità, dal gruppo appartamento, e questo crea un forte disagio. Abbiamo pensato di proporre ai servizi un proseguo di progetto attraverso le esperienze di autonomia, che noi chiamiamo over 18. L'aspetto fondamentale è quella della ricerca attiva del lavoro. Dopo che sono uscito dalla comunità, ho cercato di qualche lavoro sempre con loro, abbiamo fatto il curriculum, e poi ho trovato un lavoro, ho fatto una settimana come prova, e poi ho cominciato a lavorare, e ho fatto il contratto di Inti Terminato. Mi hanno regalato una borsa lavoro di sei mesi, presso in questa fabbrica di caramelle. Scaduti sei mesi, sono riuscita finalmente a farmi dare il contratto. Ho riuscito a trovare un lavoro che ho cominciato a ottobre, con un tiro di segno, poi ho finito a ottobre, mi hanno aumentato gli altri due mesi il tiro di segno, perché la capa volevo che io continuassi lì. Abbiamo pensato che vivere in condivisione potesse creare un auto-muto aiuto, insomma, tra i ragazzi. Il sogno era stare con mia sorella, e il sogno si è realizzato, poi andando avanti è venuta anche Aisha, e in questa casa comunque ci troviamo bene. L'insegnamento di Don Bosco sicuramente ci porta a pensare che i ragazzi non vanno solo accolti, ma che è necessario accompagnarli. Mi hanno dato una mano, comunque facendo questa cosa qui mi stanno mettendo alla prova con me stessa nell'andare in autonomia. È importantissimo questo progetto perché comunque mi ha aiutato molto, spero di essere diventata proprio una donna. Grazie comunità, grazie Don Bosco. Grazie comunità, grazie Don Bosco, Don Bosco Salesiano. Che cosa vuol dire la parola Salesiano? Lo sanno in pochi a dire il vero, quindi lo dichiariamo qui a TV2000 all'ora solare, perché era devotissimo di San Francesco di Sal, un vescovo svizzero dottore della Chiesa conosciuto come il vescovo della Mansuetudine. E infatti il metodo preventivo di Don Bosco era quello della Mansuetudine, e cioè incardinato su tre principi. L'amicizia, il ragazzo è colui che è l'altro per me, per citare Ricœur, poi la cultura, perché con la cultura aveva capito chiarissimo, aveva visto lontano Giovanni Bosco, si risolve la povertà alla radice e soprattutto con l'amore alla Chiesa. Ma è interessante, perché non mette l'amore alla Chiesa in capo al primo, ma bensì l'amicizia. E infatti lui, da giovane sacerdote, quando poi di fatto con Bartolomeo Garelli fonda il primo oratorio, siamo nel 1800 e 48, lui faceva il giocogliere, cioè attirava i ragazzi con lo scherzo, c'è questa dialettica di impegno e disimpegno, o meglio, prima di disincanto, così studiando la biografia, e di impegno poi però a diventare dei bravi ragazzi. Ne raccolse tanti dalla strada. Ne raccolse tanti. Ci fu un momento, andava nelle fabbriche, li vedeva poverini magri, alcuni li ha visti nelle carceri, rosicchiati dai topi. E quindi l'uomo della Mansuetudine, che San Giovanni Bosco non poteva non commuoversi e fondare quest'opera educativa che, come lei ha detto, è un princeps all'interno della Chiesa Cattolica, peraltro diffusa in tutte le nazioni. Perché è capillare diffusa ovunque. Nasce la congregazione poi delle suore di Maria Ausiliatrice. Molto spesso vedremo chiese dedicate a Santa Maria Ausiliatrice, tutte chiese di San Giovanni Bosco, se possiamo sintetizzare così. È una dimensione femminile, esatto. E poi i cooperatori salesiani. Noi non li conosciamo, ma sono tantissimi. Ovunque nel mondo. Io li ho conosciuti, grazie a Don Ferdinando Colombo, in Angola. Sono stata a vedere il lavoro dei salesiani in Angola. Un'ultima cosa, velocissima. Stiamo chiudendo? Proprio chiudendo? Non c'è tempo per il miracolo delle castagne? Oh, che peccato. Va bene. Ma comunque si potrebbe anche dire che avvinceva i ragazzi dando delle castagne che non c'erano, ma lui riusciva anche a produrle. Perché fare del bene ai giovani vuol dire fare del bene al cuore della Chiesa. Perché il futuro della Chiesa, come lei prima accennava, sta nei giovani, come ha accennato il servizio. E questa è stata l'intuizione di Don Bosco. Stai con la Chiesa e i giovani staranno con te. Stai con i giovani e la Chiesa si rinnoverà. Padre Gianluigi Pasquale, grazie di essere stato all'Ora Solare. San Giovanni Bosco e un grazie a tutti i salesiani spazio ovunque nel mondo. Grazie davvero. Prego, prego. E a questo punto l'abbraccio dello studio dell'Ora Solare al nostro padre Gianluigi Pasquale. Tra poco la recita alla coroncina della Divina Misericordia e poi subito dopo siamo noi. L'Ora Solare ritorna domani. Grazie a tutti. Finestre spalancate. Grazie di cuore. A domani. Grazie a padre. Grazie. A lei. A lei. Grazie a voi. Ma che dolcezza. Grazie. È stato un tesoro. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.